Ciao a tutti, io sono Sara, io sono Manuela e io è Jessica. Io gioco 9, io 15 e io 10, esattamente come gli anni che festeggiamo insieme il 6, 7, 8 luglio a Padova. Vi aspettiamo, ciao! Noi giochiamo a rugby e niente, volevamo farvi gli auguri per i 10 anni di ragazze nel pallone. Noi giochiamo a rugby e niente, volevamo farvi gli auguri per i 10 anni di ragazze nel pallone.